Però poi di natura sono finché siamo qui va sempre abbastanza bene. Una storia di mala sanità, l'ennesima storia di mala sanità, parte da un incidente sul lavoro, un intervento alla gamba per frattura, lo dico giusto per farvi capire a casa, poi l'avvocato userà i termini adatti, un chiodo metallico non del tutto disinfettato, per il caso di dire, porta delle infezioni e il nostro Antonio Manzella, che è il protagonista della storia, si ritrova a vivere un calvario abbastanza lungo. Grazie per essere qui Antonio, grazie ad Anna Lisa Quarante, che è sua moglie, e poi l'avvocato Luca Di Lorenzo, che ovviamente segue questo caso. Ecco, facciamo un po' di cronologia. Luca, che sei sicuramente più ferrato anche nei termini. Allora, il caso di cui parliamo oggi ho deciso di proportelo perché è un caso particolare. Come al di là del preambolo che tu hai appena fatto, diciamo... Ti chiedo un attimo, scusa, devo chiedere un po' di audio studio, per favore, grazie. Al di là del preambolo che riguardava il fatto in sé, è un caso particolare perché riguarda una casistica assolutamente probabile, cioè che quindi ancora oggi purtroppo succede nelle strutture ospedaliere, che è quella delle infezioni nosocomiane. Tutte le infezioni che arrivano dall'ospedale. Esattamente, sono infezioni che vengono contratte dal paziente durante il ricovero in una struttura ospedaliera. Cioè, ovviamente le cause che possono portare questa infezione sono varie. O una contaminazione esterna, quindi in un ambiente non totalmente asettico, oppure una contaminazione involontaria da parte degli stessi sanitari che comunque, come nel caso del signor Manzella, l'hanno tenuto in cura. Oppure, cioè, tutta una serie di, diciamo, contaminazioni che se eventualmente fossero rispettati dei protocolli seri e precisi, non succederebbero, chiaramente. Avvocato, e parliamo di... dipendono sempre solo da errori umani? Assolutamente. Quindi sono disattenzioni. Assolutamente. La dottrina parla di danni prevedibili e quindi assolutamente evitabili. Per questo hanno una percentuale di disarcibilità assoluta. Il caso del signor Manzella, di cui parleremo stamattina, riguarda la contrazione dello Staphylococcus aureus. Cioè, un particolare batterio che, ovviamente, gli ha procurato una serie di danni che, ovviamente, in serie giudiziaria sono stati accertati e siamo in una fase, adesso, processuale di quantificazione del danno che gli è stato riconosciuto. Abbastanza forte, perché poi, in realtà, la stessa contrazione di questo batterio li ha portato a dover necessariamente avere delle cure particolari. perché era una, diciamo, una contrazione batterica molto forte, abbastanza severa. Quindi ha dovuto fare una serie di cure, di antibiotici. Cioè, il Cubicin, che è un antibiotico molto forte, che viene usato, diciamo, prettamente per questo tipo di infezioni. che gli ha portato, poi, un'altra serie di problemi. È certo, per esempio, la necessità della terapia iperbarica, che poi, assolutamente, una serie di disagi che poi, stesso, loro vi spiegheranno, perché poi, tra l'altro, portano un disagio nel proprio menage, diciamo, familiare, e proprio di vita sua, personale. Quindi, è un caso veramente... Antonio, quanto tempo lei è stato impegnato, se così vogliamo dire, in questo calvario? Nel senso che parte da un incidente sul lavoro che poi, tutto sommato, era abbastanza risolvibile. Sono passati oltre due anni da quando è successo l'incidente. Purtroppo... Quindi, dal primo intervento, lei è stato... Parte la convalescenza per la gamba, che però poi, convalescenza non era, perché alla fine era infezione su infezione. Credo sia stato 6-7 mesi, credo, per le cure. Comunque, sono i problemi del dopo che, purtroppo, mi hanno fatto ancora stare ancora più male. Come vi siete accorti di questa infezione, a seguito dell'intervento? Usciva del pus, dalla gamba... Dalla ferita. Poi, mi sentivo male, avevo perso 18 kg perché l'emoclubina era scesa al 7. E quindi, automaticamente, mi sentivo male, non dormivo notte e giorni. Ebbene, quando lei accusava questi malesseri, si è rivolto al medico che l'ha operato? No, siamo andati in un altro ospedale e loro se ne sono accorti che questa cosa che aveva con la gamba era da togliere. E quindi è stata tolta, però comunque non riusciva mai a debellare sia il dolore che il problema. E quindi poi hanno voluto togliere ancora la seconda cosa che mi hanno messo, e mi hanno messo il gis. E comunque dopo, dopo due anni, diciamo, diciamo che siamo stati un poco meglio rispetto. Però, diciamo che il danno l'ho subito a livello anche psicologico, questo è il problema. Annalisa, da quanto tempo siete sposati? 33 anni. Quindi lei è stata vicino? Sì, sono stata la sua forza, anche perché subire quattro interventi non è stato da poco. Oltretutto lui non era in grado di avere l'autonomia, quindi è stato cinque mesi sulla sedia a rotelle. Senza poter lavorare, quindi... Assolutamente. C'è stato anche un danno economico, credo. Anche. Poi, pensa, è stato 20 giorni ricoverato a Roma, allo Spallanzani, dove ha avuto trasfusioni, dove l'hanno rimesso in piedi, per modo di dire, sempre sulla sedia a rotelle. Ma mia vita ha rischiato la vita, nonché l'amputazione della gamba. E ce la siamo vissi nera. Ovviamente, all'inizio nascondevamo tante cose, perché non era in condizioni psicologiche da poter sapere tutto. Di poter affrontare. Assolutamente. Quindi, dopo vari ricoveri, vari interventi, cioè un uomo che aveva un certo ruolo, anche lavorativo, si è trovato, da un giorno all'altro, purtroppo, ad avere un ruolo adesso molto marginale, con un lavoro anche part-time, perché non può assolutamente sostenere l'orario del lavoro le otto ore normali. Quindi, anche una carriera lavorativa, se vogliamo, abbastanza... Diciamo, non è una carriera di un operaio, però aveva un ruolo di responsabilità, mentre adesso è un ruolo molto marginale, oltretutto un part-time, che non può sostenere più le otto ore lavorative, date le condizioni fisiche. Quindi, ancora oggi vi trovate a vivere le conseguenze di questo? Non solo, ha avuto un altro intervento, sempre come conseguenza del primo, perché, purtroppo, la cattiva postura, due anni che tu appoggi tutto il peso su un'altra gamba, ha avuto un intervento anche l'altra gamba, di una frattura del menisco, chiaramente, che purtroppo è stata una conseguenza. Ma, al di là di quello, cioè, perdere 20 kg di peso, dove adesso chiaramente ha recuperato, avere trasfusioni, vedere tutto nero, stare male, anche fisicamente, rischiare l'amputazione di una gamba, non è facile. Assolutamente. Anche nell'ambito della famiglia, cioè, io sono stato il suo supporto, è vero, ma chi ha sofferto è stato lui. Al di là del fattore economico, anche il fattore morale. Come no? E quello che tu... cioè, lui, praticamente, ha fatto già testamento, eh. Lui mi aveva raccomandato i figli, perché, secondo lui, non usciva più da Roma. E fortunata è la vita. Antonio, quindi hai veramente pensato che potesse essere finita qui? Veramente, l'ho pensato e ancora oggi mi viene ogni tanto in mente che mi può succedere qualsiasi cosa da un giorno all'altro. È come un controauma psicologico, no? Sì. Avvocato, la controparte, si sono giustificati? Io poi mi chiedo sempre l'altra parte, no? Come si giustifica di fronte a una cosa? Allora, sostanzialmente, diciamo, i processi che vengono incardinati sulle infezioni nosocomiali, in parte, tra virgolette sempre, sono più facili da dimostrare per noi. Perché, in realtà, il paziente entra con uno stato fisico assolutamente sano. Quindi, nel momento in cui una serie di accertamenti post-operatori dimostrano la contrazione di un batterio, come quello lì, che ha contratto lui durante l'operazione nel primo ospedale, perché lui ha subito varie operazioni, però la contrazione del batterio è stata, al primo intervento, quindi nel primo presidio ospedaliero, sono praticamente facili da dimostrare, perché ziologicamente è quasi diretta la dimostrazione del caso. Ovviamente, loro, le strutture ospedaliere, quando si costituiscono, hanno l'onere probatoria di dover dimostrare che, in realtà, sono state rispettate le linee guida sul contatto del paziente, sul, diciamo, il soggiorno ospedalizzato all'interno della struttura. Cioè, compito loro, ovviamente è un'onere probatoria assolutamente difficile da dimostrare, perché è stato non... Processualmente a che punto stiamo? Allora, noi un anno fa incardinammo la prima fase processuale, che è stata quella dell'accertamento tecnico preventivo, che, come ti ho accenato molte volte, è quasi un passaggio obbligato per questo tipo di processi, nel quale è stato nominato un CTU, un professore universitario, un mio giudizio molto bravo, che ha riconosciuto ziologicamente il danno, quindi tutto quello che era, è stato, era ed è conseguenza dell'intervento, quindi della contrazione dello Staphylococcus aureus. In più, ci ha dato la possibilità, quindi quantificando un danno differenziale, è di poterci riservare con una integrazione di CTU nel 702 bis che stiamo svolgendo ora, di poter quantificare gli ultimi danni che sono conseguenze effetto dell'intervento. Eh beh, ci aspetta forse ancora un po' di strada per arrivare. Guarda, non tantissima, non tantissima, anche perché tra l'altro il 702 bis è un procedimento sommario, quindi è, diciamo, quasi ammazzasicca, c'è quindi una soludienza nel quale poi il giudice si riserva e decide sulla scorta di quelle che sono state le consulenze tecniche dei periti da lei nominato. E mi sembra tutto abbastanza chiaro. Assolutamente. Assolutamente. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, che al di là di quello che è successo, comunque mio marito ha un danno permanente perché è diventato un'osteomelite cronica, definita dall'infettivologa che lo viene in cura da Napoli. Tra l'altro, le sue testuali parole, lui vivrà con una spada di Damocle sulla testa perché improvvisamente questa infezione verrà fuori, si sveglierà, adesso è in fase dormiente, però ogni tanto lui avrà bisogno di cure mediche perché è una cosa che rimarrà per tutta la vita. La dottoressa dice che una volta che entra l'infezione nell'osso non esce più, c'è poco da fare. Adesso è tenuta a bada dai farmaci, ma bello e buono, lei prenderà forza e quindi si dovrà ricominciare. Quindi altri ricoveri, altre cose, altre cure. Certo, quindi ovviamente la quantificazione economica del danno comprenderà anche questa serie di disagi per le eventuali recidive, anche perché un processo somelitico così severo come quello che ha avuto lui ha una possibilità di recidiva molto alta, quindi assolutamente. Il caro avvocato, nonostante questo stesso lavoro, spero di non sentirne più di casi del genere. Ricordiamo che c'è una fascia di medici che lavora bene. Assolutamente. Assolutamente. Già voi avete incontrato chi è riuscito a recuperare la situazione, però ce ne sono tanti altri che purtroppo il loro dovere non lo fanno in modo corretto. e speriamo che magari dall'alto, perché ecco, dobbiamo sempre far riferimento all'organizzazione e quindi al Ministero della Salute e quant'altro, che si faccia un po' di ordine in tutto il sistema medico. Grazie per essere stato con noi e grazie in bocca al lupo soprattutto. Grazie.